Via Lago di Borgiano, ieri e oggi. A giugno del 2022 i palazzi a rischio crollo sono stati abbattuti grazie ai fondi rimarca Blasioli intercettati dalla passata amministrazione di centro-sinistra e dalla protezione civile, circa 12 milioni di euro. E chi non ricorda, incalza ancora il consigliere del PD la presentazione del progetto di riqualificazione dell'intera zona, con al centro la piazza che già aveva un nome, Parco della Speranza, è giusto quella per essere andata via. Ed ecco Via Lago di Borgiano oggi. Via Lago di Borgiano è un'occasione mancata così come l'abbattimento del ferro di cavallo perché all'interno, al posto di tre palazzi abbattuti ci sarà una piazza che come quella di questa mattina sarà una piazza, una landa desolata e assolata. Non porterà vita, non porterà nessun valore aggiunto al quartiere, nessun servizio. Al posto di questa landa desolata ci poteva esserci un asilo perché il comune ha avuto dei soldi per fare l'asilo, poteva esserci la casa di comunità che invece faranno al posto di un parco, poteva esserci la sede di università che invece non ci sarà. La stessa cosa vale per il ferro di cavallo che sarà abbattuto e ricostruito più piccolo ma identico. Il progetto di riqualificazione non è mai stato condiviso dal centro-sinistra che avrebbe voluto lì al centro dove oggi insiste un vuoto urbano che viene riempito di spazzatura servizi. I palazzoni sono andati via ma purtroppo l'Ater ci consegna una nuova architettura, questi mattoni a faccia vista, questi forati che costringono le famiglie a convivere con il freddo d'inverno e con il caldo d'estate. Dovevano durare 180 giorni quei lavori, ne sono durati 400. Noi chiediamo una rapida soluzione. La nuova architettura, come ha ironizzato Blasioli, frutto di lavori non portati a termine avviati il 29 giugno 2022. Cosa resta oggi in Via Lago di Borgiano? Palazzi spogliati, persino di cappotto esterno.